Il sostegno alle finanze nazionali arriverà anche dalla ripresa del comparto immobiliare. Ne hanno discusso a Roma in un convegno organizzato da Asso Immobiliare, nel quale Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, ha lanciato un appello ai fondi di investimento per coinvolgerli sulla gestione del patrimonio pubblico e a garantire fondi freschi all'erario. Sentiamo. La nuova frontiera che noi stiamo cercando di sviluppare insieme anche alle SGR private, in ogni regione, in particolare stiamo partiti nelle regioni del nord e del centro, stiamo attivando fondi diretti e indiretti che tendano a valorizzare gli immobili dello Stato, delle regioni e dei comuni. Quindi la mia richiesta è anche di collaborazione stretta con i privati, le SGR private che dovranno e potranno gestire quei fondi.